Taxi con il cuore è un'iniziativa solidale di Family Care e del gruppo Open John Mattis. Attivare il servizio è molto semplice, basterà contattare la nostra filiale di Varese aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il personale di Family Care fornirà sia un codice che l'utente dovrà poi comunicare a Radiotaxi Varese per chiamare il taxi, sia un voucher digitale che dovrà essere mostrato al tassista per usufruire gratuitamente dalla corsa. Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di Prealpina.it Apriamo con la pallacanestro e con la clamorosa decisione presa questa mattina da Varese che è esonerato dall'incarico di allenatore Johan Royackers per condotta non in linea con i principi del club. Il servizio di Giuseppe Sciascia con le immagini di Agenzia Blitz. Clamorosa Varese, salta anche Johan Royackers. Tre mesi dopo il suo subentro ad Adriano Vertemati, il tecnico olandese che aveva riportato l'Open Job Metis dall'ultimo all'ottavo posto in classifica, salvo poi scivolare nuovamente in pericolo della retrocessione con una serie di quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, è stato sollevato dall'incarico dal club del presidente Vittorelli. Condotta in linea con i principi del club, la motivazione ufficiale del comunicato espresso dalla società. In discussione dunque non ci sono risultati sportivi, ma il comportamento del tecnico che nell'ultima partita a casa rinca con Trieste è, secondo la società, andato decisamente sopra le righe, soprattutto nella gestione di Justin Reyes ma anche di altri giocatori, un intervallo burrascoso dei metodi comunque troppo ruvidi nei confronti della squadra che hanno indotto Luis Scola a un confronto nel quale poi Royacres ha mantenuto le sue posizioni. Sostanzialmente sembra un bis di quanto è avvenuto a settembre 2020 quando Attidiocaia venne esonerato per le stesse ragioni. La squadra è stata affidata all'assistente Alberto Seravalli. E per la cronaca ci spostiamo a Gallarate. L'appello sui social è partito lunedì scorso, 11 aprile, quando di Aurora, 14 anni, si sono perse le tracce. La famiglia è stata allertata dai servizi sociali perché non era tornata in comunità nella zona di guarda di Milano. E ieri sera proprio la famiglia di Aurora ha lanciato l'appello in tv. «Torna a casa, mamma e papà ti vogliono bene e i tuoi fratelli ti aspettano», hanno detto a chi l'ha visto. La notissima trasmissione di Rai 3. Aurora era in una comunità di Milano da cui pare che si sia allontanata già da domenica. La 14enne è alta 1,60, ha occhi e capelli castani, non avrebbe con sé né i documenti né il cellulare trattenuto dalla comunità. Potrebbe essere con un'amica, ma è solo un'ipotesi. I familiari hanno sporto denuncia per la sua scomparsa. L'invito per chi la vedesse è di rivolgersi subito ai genitori in grande apprezzione e naturalmente alle forze dell'ordine. E si apre purtroppo nel peggiore dei modi il periodo di relax pasquale da dedicare ai momenti di sbago per gli amanti della montagna. Un escursionista di 25 anni di Milano è morto in un incidente avvenuto sulle montagne del Lecchese. L'allarme è stato lanciato dai genitori ieri sera perché il figlio non era rientrato a casa e i tecnici del soccorso alpino della 19esima delegazione lariana con 25 persone, i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri del comando provinciale hanno avviato le ricerche nella zona di Barzio, in particolare sul sentiero degli stradini che unisce le località dei piani di Artavaggio ai piani di Bobbio. Dopo qualche ora i soccorritori hanno trovato a 1800 metri di quota lo zaino del giovane. Il corpo si trovava un centinaio di metri più sotto, in un dirupo. Nuova rotta con partenza da malpensa. EasyJet infatti si prepara a inaugurare il volo verso l'Islanda. La nuova rotta sarà verso la capitale Reykjavik e si aggiungerà alle circa 220 tra internazionali e domestiche del già vasto network italiano della Compagnia Aerea Britannica. Il viaggio a Reykjavik è in vendita già da oggi e il primo decollo è previsto per il 28 maggio con fino a tre voglia alla settimana, il martedì, il giovedì e il sabato a orari che consentiranno di arrivare nella capitale islandese anche al mattino e di rientrare a Milano nel tardo pomeriggio. E in chiusura torniamo allo sport. È finita nel peggiore dei modi l'annata sportiva della UIVA Booster Sizio eliminata nei quarti di finale dei play-off di pallavolo femminile di Serie A1 il servizio della redazione. Fine corsa. L'UIVA è fuori dai play-off. Dopo la secca sconfitta in gara 1 ieri sera a Booster Sizio è maturato il secondo definitivo KO contro Scandicci. Ancora 3-0 per le Toscane con parziali impietosi 25-14, 25-18, 25-15. Ora la Savino del Bene va a sfidare Conegliano nelle semifinali play-off. Deludente epilogo di stagione dunque per Busto Arsizio che per ben due volte lascia strada facile alla Savino del Bene senza nemmeno lottare e provarci nascondendosi un po' dietro alle attenuanti degli infortuni e delle difficoltà dell'ultimo periodo che paiono però oggettivamente fragili. Per i bilanci ci sarà tempo intanto in Casa Biancorossa si guarda già al futuro la squadra per la prossima annata è in pratica già fatta tra le operazioni certe e il grande ritorno di Lloyd in palleggio.